eccoci qui buonasera a tutti siamo alla scuola olden per ossessioni e io sono andrea chiarvesio game designer e uno dei docenti del workshop sui giochi da tavolo che si tiene qui in scuola un laboratorio dove si impara a creare giochi come come game designer che è un mestiere qui con me c'è l'amico andrea dado che è blogger di giochi da tavolo scrittore e game designer se hai altro altri modi in cui ti vuoi presentare ai nostri amici ma ma giocatore anche giocatore quello col dire giocatore poi il resto è arrivato di conseguenza ora siamo qui per parlare di giochi da tavolo storytelling la olden è un po la sede naturale per questo tipo di argomento è la componente fondamentale del laboratorio dove si cerca proprio di esplorare il rapporto tra raccontare storie e creare giochi ora io ho un'opinione che magari andrea condividerà e cioè secondo me tutti i giochi in qualche misura raccontano una storia anche quelli che sembrano non farlo anche gli scacchi gli scacchi raccontano la storia di una battaglia tra due eserciti con i re schierati le truppe i movimenti eccetera la dama racconta una storia quindi tutti davvero poi certamente ci sono giochi che fanno della componente storia un po il loro il loro focus tu cosa ne pensi ma allora quando diciamo ci siamo sentiti per preparare un pochettino gli argomenti per questa puntata io ho cominciato a pensare quali titoli potessero essere più più idonei per raccontare le storie e sono partito proprio invece a cercare partendo da dei giochi che invece non raccontavano a mio avviso storie quindi abbiamo già un pensiero come dire diverso su questo e infatti fra i titoli che avevo pensato c'era quarto quarto è un gioco che che storia che storia gli appiccicheresti a quarto quarto è un gioco astratto dove i giocatori si alternano a posizionare dei pezzi di varie di diverse forme altezze che possono essere pieni o forati al centro sostanzialmente diciamo una sorta di evoluzione del classico gioco del tris per spiegare quarto chi non lo conosce anche se sto dando una definizione molto riduttiva di quarto secondo me quarto racconta una storia di latifondisti architetti in lotta per conquistare spazi all'interno di una città e di un'isola dove ogni edificio mette in ombra quello precedente dove riuscire a inserire un edificio nel posto corretto ti dà dei vantaggi una lotta tra catene commerciali di negozi cioè può raccontare tante storie certamente è la mia interpretazione è la tua storia è la storia che tu dai a quarto però è un gioco che prima citava gli scacchi se anziché il cavallo il cavallo verso un'altra forma fosse cresso un cilindro verticale che però si muove come cavallo la storia sarebbe identica il gioco sarebbe identico ma la storia no nel senso che c'è gli scacchi rappresentano palesemente una battaglia però non rappresentano nient'altro poi quali eserciti lo riempiamo noi ecco io vedo i giochi più astratti di questo tipo un po come le stelle in cielo noi tracciamo le costellazioni ed è una cosa che facciamo noi ma non significa che con le costellazioni non abbiano significato certamente significato che noi attribuiamo in questo caso i giochi sono volontà che sono creazioni di qualcuno quindi un pizzico di ecco anche il quarto comunque o quarto è uno è un andare a occupare degli spazi in competizione tra di noi quindi racconta una storia di competizione per la conquista di spazi magari sono pascoli magari sono ecco cioè quarto rende è un più ermetico rende meno esplicito quello che davvero raccontano tutti i giochi è il tipo di relazione che si instaura tra le persone al tavolo se questo diciamo che abbiamo un po un punto di vista diverso nel senso che forse più che una storia io vedo la volontà di inquadrare una sensazione vedo magari che ne so cerco cerco dei giochi che più che raccontare una storia raccontano uno stato d'animo nel senso riesci con questo con questo determinato gioco a provare qualcosa prima facevamo mentre prendevamo caffè chiacchiamo di giochi horror e dicevamo che la caratteristica di determinati giochi horror è riuscire a mettere un po di tensione un po di un po di paura nella giocata che poi paura è una parola grossa però è aderente alla all'ambientazione quindi quello sì però diciamo che sugli estratti io sono un po più arido di te non trovo non trovo tanti messaggi oppure gliele appiccico sopra male tendo a vederli in maniera più schematica diciamo che abbiamo tanto termine offerte legittimo legittimo ma sì nel senso quello che dici è anche corretto credo cioè alla fine quello che quando ci caliamo quando anche tu ti cali nei panni di game designer quello che progettiamo diciamo di solito è un'esperienza di gioco ora dell'esperienza di gioco fanno parte le sensazioni che provi giocando questo sicuramente se poi le sensazioni che provi giocando e quello che succede durante la partita prendono la forma di un racconto di una storia che in questo caso certamente non è già pre iscritta ecco c'è una grossa differenza tu a differenza mia sei autore anche di libri di racconti di diciamo di un modo di fare storytelling sicuramente più diffuso e tradizionale la differenza è che spesso volentieri nei giochi la storia emerge giocando mentre lo scrittore la storia la prepara prima e la da diciamo un passo al lettore da leggere i giochi hanno questo strano connubio che si vede ad esempio esaltato nel mezzo video ludico quindi nei videogiochi dove non c'è uno spettatore passivo che legge o guarda o ascolta ma c'è un giocatore attivo che contribuisce alla creazione della storia quindi il designer è un mestiere diverso nello scrittore perché il designer sa di non avere il controllo su quello che accadrà nella partita può predisporre delle linee guida può predisporre dei confini dei recinti entro i quali la storia può galoppare libera se mi passate la metafora ma non ha il rigido controllo di ok questo è il quarto capitolo ora succede sicuramente questo ecco i giochi che invece seguono questo schema io ritrovo meno giochi e più racconti e ci sono anche degli esempi di questo tipo secondo te di giochi che invece hanno una narrazione molto più rigida e schematica ma allora ci sono sicuramente dei giochi che ti danno anche la possibilità di manipolare una storia di intervenire con le tue scelte nella nello svolgimento della 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 storia ci se ne sono altri nei quali tu invece come dire ti muovi all'interno di questo gioco e le tue azioni di dare una possibilità di scoprire un mondo nel quale nel quale ti trovi per esempio molti giochi di laucat partiamo da i boven di love che è stato il primo gioco che ha lanciato un pochettino laucat era un gioco nel quale c'era già questo mondo i giocatori avevano la possibilità di costruire edifici aveva la possibilità anche di esplorare questo mondo non avevano una parte così attiva cioè il loro personaggio aveva una capacità di intervenire sul mondo esterno proprio minima però muovendoti all'interno di questo mondo tu vedevi un pochettino come era fatto vedevi le regole vedevano vedevi gli abitanti vedevi la storia di questo mondo quindi non eri un agente come dire del cambiamento eri uno spettatore e avevi tutta quella parte che normalmente non non hai se non se non vivi dentro la storia per tanto tempo sai che dal punto di vista proprio della narrazione dello storytelling nel gioco sono i giochi che mi piacciono meno mi convincono meno proprio perché ho la sensazione quando gioco giochi di questo genere in generale che hanno magari un libro no all'interno proprio del gioco dove di tanto in tanto il gioco dice adesso andate a leggere il paragrafo 106 leggete cosa c'è scritto nel caso prendete una decisione questa cambia delle cose sul tabellone o cambierà i paragrafi che leggero diciamo il tentativo di un pochino mescolare quella che la narrazione tipica dei libri gioco con il gioco da tavolo sono quelli che mi convincono meno perché alla fine mi dico ok i libri gioco sono un modo per raccontare storie codificato che in parte anche parallelismi e contatti con la grande letteratura penso a calvino insomma a borghes a grandi autori che hanno giocato con questo modo di far prendere delle decisioni ai lettori all'interno di una storia di cui però loro rimangono i sovrani assoluti hanno semplicemente previsto una serie di bivi che tu puoi scegliere quale percorrere ma sostanzialmente rimane nelle mani del narratore la storia ecco i giochi a tavolo di questo tipo mi sembrano un libro gioco calato all'interno cioè con un supporto da tavolo dove hai delle pedine hai delle cose da fare eccetera eccetera ma sostanzialmente tu come dicevi tu i giocatori non hanno agency stanno leggendo un libro game stanno leggendo un libro scritto dall'autore in questo caso solo che qui gli viene data questa complicazione addizionale che nel farlo ogni tanto devono spostare delle pedine convertire delle risorse e fare delle cose io preferisco mi rendo conto che in parte gusto personale le storie che emergono dal gioco stesso senza bisogno di metterci un libro dentro non so come dire cioè ecco paradossalmente non so quando quando si gioca a pandemic pandemic abbiamo una struttura che è una struttura narrativa abbiamo una crisi un'emergenza in corso stanno scoppiando quattro pandemie abbiamo i protagonisti che sono i giocatori ognuno con il suo carattere le sue abilità speciali il suo potenziale ben distinti ben caratterizzati poi però i giocatori sono liberi di interpretare il loro personaggio come meglio credono ovvero di fare le mosse che preferiscono al tavolo ecco quando quando nei giochi da tavolo parlo di interpretare il personaggio come meglio crede parlo di svolgere le mosse se siamo invece all'interpretazione parliamo di giochi di ruolo che sono un altro capitolo a parte che meriterebbe un'ora di chiacchierata a parte quindi anche e anche di più ma li citiamo a un passaggio ecco in quel caso quando io chiudo una partita finito la partita pandemic secondo me c'è una storia cioè possiamo metterci a raccontare la storia cioè il mio personaggio è partito che non sapeva cosa fare però poi ha trovato un passaggio per un volo verso pechino dove la malattia tal dei tali si stava sviluppando e allora ha deciso di intervenire cioè è tutta una forma di narrazione emergente chiaramente poi uno può giocarlo soltanto per le mosse come se fosse la risoluzione di un cruciverba ecco adesso la stai la stai vivendo molto da come dire da una persona che si immerge molto in questa storia lato mio io che sono forse un giocatore un po più euro game diciamo meno in questo caso legato a queste meccaniche strette in un gioco come pandemia io più che quello vivo la storia i momenti per esempio si è sviluppato un focolaio in sud america cavolo siamo riusciti a contenerlo siamo riusciti a grazie al mio ruolo che ne so del medico che puliva meglio i cubetti contagio ecco la vivo in questa maniera più che vedere il volo ho preso ho approfittato dell'aereo eccetera io lo vedo in come cavolo siamo riusciti a debellare il virus che avevamo quasi compromesso tutti gli stati uniti invece ce l'abbiamo fatta è una parte è una parte che emerge ecco cioè secondo me i giochi riescono a dare il meglio di sé nel raccontare storie quando la storia è davvero nelle mani ci passano di dei giocatori cioè non so ci sono giochi bellissimi e micro macro ai n casi gialli o comunque storie storie weird a volte sembrano ai confini nella realtà però insomma hai delle storie che succedono dei piccoli crimini delle cose interessanti all'interno di un'enorme gigantesca raffigurazione giusto per spiegare la città ecco spiegate un meglio è un foglio penso che sia una zero qualcosa una zero un foglio molto grande cioè il gioco è un unico foglio a zero scritto piccolo piccolo con milioni di disegnini come quel fumetto che c'era dove vuole dove vuole e all'interno però di tutti questi fumetti che rappresentano una città ci sono dei personaggi ma non ci sono soltanto dei personaggi nell'atto di fare una piccolazione vengono ripetuti all'interno di questa città e questa è stata la genialata di micro macro e quindi ci sono anche sono anche spiegati dei delitti per esempio all'inizio c'è magari un uomo che vede la moglie con un amante nella vignetta dopo ci vedi l'uomo che raccoglie un coltello da un cassetto in quella dopo vedi l'omicidio in quella dopo vedi che sta vedi che sta buttando un cadavere nel fiume e lo vedi attraverso quattro disegnini e tu riesci a ricostruire questa storia e ce ne sono tante all'interno del di questo grosso foglio a zero che possono essere sia legati fra loro che anche slegate come i fatti di una città vera è una bella rappresentazione dell'unità di tempo di luogo aristotelica nella drammaturgia nello stesso tempo di nuovo io quando gioco micromacro mi sento uno spettatore che sta risolvendo un puzzle enigmistico ecco mi sento come quando risolvo le parole crociate no più le parole crociate cioè perché devo avere il colpo d'occhio di trovare delle cose all'interno di uno schema si certamente c'è poi da parte mia c'è l'unire i puntini ecco mi sembra una versione molto complicata del gioco della settimana di mistica uniti punti da 1 a 22 si perché poi bisogna proprio seguirlo a volte si infila nelle scale della metropolitana esce dall'altra parte prende il taxi bisogna si ricostruire proprio queste storie da semplici spettatori noi non possiamo influire in nessuna maniera nella narrazione però a me piace perché sono tante storie e viene rappresentata anche una città una metropoli troppo di forse una parola grossa per una città nella quale il vicino spia la moglie l'altro ruba i panni dalla vicina di casa eccetera sono tra me è una versione gigantesca della finestra sul cortile messa su carta assolutamente però vedi io sono contento perché so che la pensiamo diversamente per me appunto micromacro è un'idea geniale un'esperienza di gioco va bene ok se uniamo i puntini seguiamo la storia si il tizio ha ammazzato la moglie va bene che poi dovremmo smettere per questi esempi ma questo ha rapizzato la banca magari un caso qui c'è la polizia che lo insegue eccetera e io non lo so sarà che io un rapporto personale difficile con animistica mi annoia e quindi poi tendo ad avere poi un rapporto difficile con i giochi però che fanno delle animistiche al loro cuore a livello proprio di gioco e narrazione trovo di nuovo che sia un bel modo innovativo interessante di raccontare delle storie che quasi paradossalmente con il game design non dico poco a che vedere però di nuovo magari sto però è più interessante secondo me provare a forzare un po' di più la fantasia e l'interpretazione non so mi viene in mente il titolo di un amico di amici che tre segreti ora tre segreti è un gioco veramente brillante perché il gioco vi presenta un'immagine e dovete scoprire quali sono i tre segreti nascosti in quell'immagine una carta tra l'altro prima siamo passati da una zero a una piccola carta eppure tre segreti riesce a farmi volare con la fantasia a coinvolgermi nel cercare di capire la storia che c'è dietro di più cioè io lo trovo un gioco che mi coinvolge di più mi prende di più proprio a livello narrativo ed è veramente ecco c'è un gioco spieghiamo brevemente come funziona anche questo ma giusto per dare due per chi non conosce tre segreti c'è una carta che rappresenta una scena tra l'altro la bellezza secondo me di tre segreti che mostra scene di periodi diversi luoghi diversi personaggi diversi addirittura dei cavernicoli delle persone della londra vittoriana cioè veramente di tutto e in questa carta vengono evidenziati con tre colori diversi di solito tre oggetti o personaggi o dettagli i giocatori possono chiedere al narratore ossia la persona che, utilizzo questa salvietta tiene la carta e legge sul retro i tre segreti quali sono possono fare delle domande cercando di ricostruire quali sono i tre segreti e lui potrà rispondere soltanto sì o no o ininfluente, indifferente e devono, e normalmente questi tre segreti sono sempre legati a una piccola narrazione piccolo fatto che è successo per esempio, vabbè, non facciamo spoiler sulla storia perché magari sono dei fatti criminosi magari sono dei momenti di, diciamo, di riflessione forse è una parola grossa però crisi familiari c'è veramente di tutto speculazioni, ci sono tante cose e c'è molta interazione fra i giocatori c'è uno che legge, gli altri che fanno domande e ragionano fra loro lì l'interazione è proprio dovuta dai ragionamenti che riescono a veicolare i giocatori e lì c'è il gioco cioè lì è secondo me la bellezza del gioco e anche la componente veramente narrativa perché poi sì, alla fine tu hai lo scopo di capire qual era il segreto originariamente previsto dagli autori e a volte mi è capitato giocando tra segreti che tra le ipotesi fatte tra i giocatori ci fossero storie più interessanti è vero, è verissimo cosa che ad esempio in micromacro non succede per quello io sento di più micromacro è più statico è più statico ma più che altro perché non ci sono diciamo appunto ragionamenti dei giocatori invece a volte è effettivamente capitato in partita che i giocatori costruissero anche un'ambientazione attorno a quei segreti e li facesse anche un po' galoppare con la fantasia è bello, un bel gioco e questa è una cosa che puoi fare solo con il gioco parlando di investigazione che forse è uno dei primi titoli che si è affermato per essere un gioco che faceva e fa tuttora tuttora giocatissimo del raccontare una storia un po' il proprio cuore identitario era Sherlock Holmes Consulting Detective Sherlock Holmes Consulting Detective sempre per chi non conoscesse il titolo in italiano è Sherlock Holmes Consulente Investigativo sì, Consulente Investigativo poi ne ha fatti diverse puntate, diverse edizioni vi mette nei panni dei... come si chiama? gli irregolari di Baker Street è vero e in quanto gli irregolari di Baker Street Holmes sta risolvendo Sherlock Holmes lo conosciamo tutti ha un crimine da risolvere e voi provate a risolverlo per conto vostro non sarete mai bravi, rapidi, efficienti nelle vostre deduzioni come Holmes però potete provare ad arrivarci vicino intanto a rispondere a tutte le domande da cui vi mette davanti il caso e cercando diciamo di metterci quante meno mosse possibili ovvero di visitare il minor numero di luoghi possibili i luoghi sono rappresentati su una mappa che raffigura su una larga parte di Londra e sono raccontati da un libricino di nuovo simile a un libro gioco con i suoi paragrafi in questo caso non vi viene neanche chiesto di fare delle scelte mentre giocate cioè la vostra unica scelta è andiamo a leggere cosa c'è al 103 che magari corrisponde alla casa di uno dei sospettati oppure alla banca dove è stata effettuata la rapina oppure ancora è la stazione di noleggio dei cavalli cioè delle vetture perché magari volete interrogare un vetturino e chiedergli se ha dato un passaggio a qualcuno che stava scappando dalla via tal d'Italia ecco fa due cose molto bene secondo me Sherlock Holmes Consulting Detective intanto non vi mette nei panni di Holmes e neanche di Watson ma vi immerge nel mondo di Doyle attraverso personaggi esistenti in quel mondo ma non così principali cioè indossare i panni di Holmes sarebbe stato secondo me un gioco deduttivo e alcuni videogiochi secondo me fanno questo errore e sono panni molto pesanti da portare perché insomma nessuno di noi o quasi nessuno di noi è brillante esatto è così brillante ha le doti deduttive, abduttive, investigative di Sherlock e invece svincola da molta meno tensione ti senti meno come dire forzato a doverlo risolvere ma noi guarda adesso è un po' che non lo giochiamo abbiamo giocato anche a Mythos che fa la stessa cosa ma d'ambientazione l'overcraftiana a me piace anche parecchio Mythos stimola molto la discussione per cercare di capire che cosa cavolo è successo e fare le scelte migliori ossia visitare meno luoghi però in realtà si innesca cioè noi per esempio nel nostro gruppo non lo inneschiamo così tanto la competizione con Holmes non diciamo mai tanto sappiamo che non vinciamo mai è la regola di quasi tutti i gruppi che conosco non puoi vincere contro Holmes però cercare di capirlo nella maniera più ottimale più efficiente possibile commettere meno errori ogni tanto quando capiti in quel paragrafo che dice non scopri niente oppure ti senti un po' un po' stupido però conosco un paio di game developer che sono in grado di rivaleggiare quando gioco con loro si arriva molto vicino ai risultati di Holmes però sì la maggior parte dei gruppi gioca così proprio perché in questo caso è davvero l'esplorazione di un mondo che è reso benissimo la parte narrativa l'altro escamotage molto ben studiato è che tra i materiali di gioco vengono forniti ad esempio delle finte prime pagine insomma o pagine fronte e retro con i giornali dell'epoca dei giorni in cui si svolgono le vicende e tra l'altro i giornali non ti dicono cioè non è che c'è il ritaglio di questa notizia importante c'è tutto il giornale c'è tutto il giornale quindi l'indizio può essere sulla pubblicità di un prodotto sul necrologio di un personaggio i risultati delle corse dei cavalli sì sì può essere la qualunque quindi tu sei costretto davvero investigatore a cercare indizi dappertutto e a volte andando avanti hai più pagine del giornale tra l'altro che è anche tosto guarda a me piace molto poi tra l'altro hanno anche studiato bene la mappa perché tu calcoli anche i tempi dei trasporti quanto ci piega di andare a quella lì non solo tu ma anche il sospettato ad esempio quindi ce l'avrebbe fatta in mezz'ora ad arrivare dall'altra parte quindi stimola veramente la discussione e qui secondo me benché la storia perché poi la soluzione è quella non puoi toccare sono 20 soluzioni diverse o tante quante sono i giocatori i gruppi che lo giocano no 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 la soluzione come nel classico canone holmesiano è una cioè un colpevole due colpevoli quello che è e ha fatto in quel modo e tu lo scopri alla fine holmes ti fa il classico spiegone dei racconti alla holmes in cui ti spiega come da un frammento di mozzicone di sigaretta analizzando il tabacco è riuscito a capire che in realtà era il vice cancelliere d'Austria il colpevole non è vero non sto spoilerando nulla ma lasciare questa libertà ai giocatori di muoversi all'interno di una trama per carità prefissata ma con grande libertà rielaborando con la loro testa gli indizi rende secondo me benissimo il senso di fare storytelling con un gioco lasciando una parte dello storytelling sebbene non sia quella legata alla trama ma quella dell'esplorazione sì totalmente nelle mani libere dei giocatori insomma come vedete ci sono molti molti modi in cui possiamo coniugare gioco da tavolo e storia cioè se ci mettiamo a giocare a Scotland Yard per dire abbiamo una forma di gioco simile perché giochiamo comunque sulla mappa di Londra diversa in cui è tutto invece l'inseguimento a Scotland Yard da parte della polizia e nelle mani dei giocatori oppure lettere da Whitechapel dove abbiamo Jack lo squartatore e la polizia che gli dà la caccia anche lì i designer bravissimi non perché sono amici per riconoscerlo hanno fatto sì che Jack è vincolato a alcuni limiti nel commettere gli omicidi che sono legati proprio a quello che è successo storicamente ma al di là di questo limite di questo vincolo e quindi la scansione temporale degli omicidi è la stessa avvenuta in realtà per il resto ha la totale libertà di scegliere lui qual è il suo nascondiglio la polizia ha la totale libertà di bloccare determinate strade lasciarne libere altre investigare in certi posti investigare in altre quindi anche qui alla fine di ogni partita a Lettera di Whitechapel o al più semplice progenitore Scotland Yard secondo me si è raccontata una storia al tavolo con la collaborazione di tutti i giocatori in parti diverse e la regia diciamo culta del game designer che ha messo loro le condizioni per esprimersi al meglio vale anche per quasi tutti i cooperativi contradditori di cui abbiamo mille esempi però ti dico questa questa visione grosso cioè ampia d'ampio respiro a me piace però mi piace anche quando c'è un ambiente circoscritto una scena circoscritta e i giocatori si muovono all'interno di quel microambiente la casa delle mannaie la casa delle mannaie ma anche banalmente un room 25 che prende come dire prende ispirazione probabilmente dal film The Cube che mi piaceva tantissimo i giocatori iniziano che sono già all'interno di questa di questa mappa irta di trappole che possono essere i se va bene non gli fanno niente se va male li feriscono se va molto male li uccidono e quindi si muovono in un ambiente circoscritto devono scappare muovendosi all'interno di queste di queste tessere facendole slittare eccetera e c'è probabilmente qualche traditore perché room 25 puoi giocarlo anche senza traditore ma trova il suo il meno brutto è qualcuno che ti spinge del buio del vuoto ho fatto delle partite veramente epiche che mi ricordo ancora adesso dopo tantissimo tempo perché tu non sai mai se ci sarà il traditore quanti saranno i traditori e c'era capitata una partita che noi eravamo fino alla fine siamo rimasti convinti che non ci fosse il traditore proprio all'ultima mossa che dovevamo scappare verso l'uscita lui mi ha detto dai vieni che ti butto verso l'uscita quando sono saltato mi ha buttato nella trappola mortale abbiamo scoperto all'ultimo turno che c'era il traditore me lo ricordo ancora adesso ha dato una sensazione molto forte vedi quanto il gioco è riuscito a creare una storia cioè quando siete riusciti all'interno del perimetro che vi ha dato il gioco a creare una storia e il fatto che in fondo il canovaccio di questa storia è fissato dall'autorico ma infatti questo perimetro circoscritto a me non dispiace anche le case della follia se vogliamo tu sei a diversi scenari le case della follia è un gioco totalmente ampio però i giocatori sono all'interno di questo ambiente horror si muovono all'interno di questo ambiente e sanno che quasi qualsiasi cosa potrebbe ammazzarli c'è una tensione crescente e devono devono stare e devono sopravvivere fondamentalmente lo scopo primario è sopravvivere ed evitare che cose molto più brutte o molto più cattive stanno per loro alla fine in fondo l'ambientazione è molto lovecraftiana esatto anche qui c'è comunque lo scenario setta loro una storia però poi è tutto fatto dai giocatori stessi in qualche maniera e da chi manovra diciamo le forze le forze che si oppongono ai giocatori c'è una cosa che volevo fare che mi è venuto in mente perché qualche sera fa mi è capitato di giocare un titolo simile che è The Thing quello ah non l'ho mai giocato quello della Pendragon quello della Pendragon sì è sempre un cooperativo con uno più traditori prende le mosse dal film omonimo siamo intrappolati una base dell'Antartide credo o dell'Artico non lo so mi ricordo troppo tempo passato da quando ho visto il film e un alieno mutaforma è uno dei giocatori che può scegliere di vincere infettando o anche addirittura una volta eventualmente scoperto eliminando fisicamente gli umani oppure può scegliere di giocare un profilo molto basso non farsi scoprire nel momento in cui viene liberato arriva l'elicottero a portarli tutti in salvo o si libera il gatto delle nevi per scappare o si riempie di benzina insomma il gioco prevede mette molti ostacoli tra le gambe dei giocatori poi se riesce a far votare agli altri la sua salita a bordo ha vinto perché si è liberato da lì e quindi è libero di di spargere la sua mostruosità per il mondo di infettare ecco mi è capitato in questa partita a The Thing appunto di essere io l'alieno alla prima volta che giocavo e ho scelto di giocare in maniera molto nascosta un po' perché se era tardi ero stanco avevo neanche del tutto capito tutte le regole del gioco sono sincero e quindi ho giocato tutta la partita a comportarmi esattamente come un essere umano a fare di tutto per proteggere la base per riscaldare la temperatura da andare a mangiare alle persone nella maniera meno sospetta possibile alla fine è arrivato l'elicottero l'elicottero doveva far salire la persona a bordo io ero il meno sospetto di tutti sono salito per primo ho detto ragazzi ho vinto sono l'alieno ciao a dimostrazione che secondo me proprio il modo di raccontare le storie dei giochi da tavolo il modo di raccontare le storie del cinema dei libri eccetera sono diverse perché la libertà lasciata ai giocatori anche di scrivere una storia brutta cioè di giocare una storia che è narrativamente piatta e brutta è stata poi vivacizzata dal fatto che ovviamente gli altri giocatori hanno iniziato a sospettare l'uno dell'altro a farsi i test per vedere se sei la creatura oppure no eccetera io giocavo tranquillamente però ecco mostra secondo me abbastanza bene questo esempio la differenza tra i due mezzi cioè anche una storia che paradossalmente risponde meno ai classici dettami della narrazione dello storytelling nei libri o nel cinema può funzionare se è messo in mano ai giocatori al tavolo funziona sicuramente come gioco magari funziona meno come storia ma sono sicuro che quella partita io e gli altri set al tavolo ce la ricorderemo a lungo perché magari la mia scelta di giocare in maniera del tutto anomala ha generato un'esperienza interessante per tutti ecco torniamo all'esperienza che dicevo prima cioè alla fine i giochi raccontano storie sì ma soprattutto ti fanno vivere esperienze di gioco e la storia che raccontano è quasi un sottoprodotto è brutto però diciamo è quasi un prodotto collaterale dell'esperienza di gioco che stiamo vivendo tutti assieme sei d'accordo? ma infatti sull'esperienza di gioco prima che parlavamo delle case della follia un esempio in piccolo di quello che mi racconti tu una volta che giocavamo uno scenario nel quale oramai eravamo presi e bersagliati dalla qualunque bestia generata dalla mente di Lovecraft a un certo punto io mi sono nascosto dentro una cassa sperando che non mi trovassero cioè le bestie che giravano sperando che non mi trovassero e io sono rimasto fermo penso due o tre turni ma con una tensione crescente e se tu ci pensi io ho rinunciato all'azione al muovermi esplorare eccetera ma mi sono divertito tantissimo perché lì il momento era cioè io lo vivevo veramente come speriamo che non mi nascosti cioè che non mi becchi c'ero veramente io dentro quella cassa era veramente io credo se vi interessa raccontare storie i giochi da tavolo e naturalmente anche i videogiochi parenti prossimi hanno questa possibilità grandiosa cioè quando noi vediamo siamo spettatori di un film o leggiamo un libro certamente se il regista è bravo ci fa sussultare cioè ci fa sentire paura per i personaggi ci fa sentire tensione perché sì ok ci cagliamo nei panni dei personaggi però non siamo veramente noi perché le decisioni che i personaggi prendono sono le loro decisioni quelle che vengono rappresentate ma no non rimanere da solo no non vi separate certo ma nei giochi da tavolo la decisione di separarti è tua sei tu cioè il sentimento di mimesi dicevano i greci di immedesimazione dicevano l'italiano è molto più forte perché appunto come il claim famoso dei libri di gioco in questo libro il protagonista sei tu ecco e i giochi sono questo cioè i giochi sono in questo gioco i protagonisti siete voi quindi la tensione che avvertite è molto più forte la capacità di coinvolgere i vostri giocatori nella storia che state raccontando è molto più alta c'è un prezzo da pagare e cioè la barriera di ingresso nei giochi da tavolo è più alta cioè io posso sedermi guardare un film lo sforzo che devo fare è specialmente quello di tenere gli occhi aperti e seguire quello che sta succedendo sullo schermo leggere un libro una volta finite le elementari dovremmo essere più o meno tutti in grado ammesso di averne voglia giocare un gioco da tavolo è un po' richiede uno sforzo un po' di più richiede che tu che qualcuno al tavolo si prenda la briga di leggere un regolamento che magari non è sempre breve o non è sempre scritto in maniera comprensibile scorrevole richiede che tutti bene o male riusciamo a comprendere le regole in base a cui si gioca e che rispettiamo una serie di convenzioni del tipo se anche al cinema io a metà del secondo tempo sono stufo me ne vado mi squilla il telefono un impegno non rovino l'esperienza cioè se mi squilla il telefono disturbo un pochino certo però ecco non rovino del tutto l'esperienza agli altri spettatori in sala se a metà di una partita stavo pensando non ti è mai successo che durante una partita qualcuno dice ragazzi io me ne vado adesso che lo dicevi stavo pensando a memoria mia non mi è mai successo a me è successo ed è effettivamente forse la cosa quasi peggiore che tu possa fare al tavolo dopo barare c'è quello non sono neanche certo a me è successo scusa se ti interrompo a me è successo di essermi accorto di aver interpretato ma non una regola di aver acquisito delle risorse che non dovevo acquisire e non l'ho detto e non l'ho detto perché per non rovinare la partita tutti quanti perché se la partita fosse arrivata cioè se l'avessi detto tutti avrebbero detto cavolo abbiamo buttato un'ora via di tempo e allora sono stato lì a subire questa cosa e a fine partita poi se ne sono accorti gli altri però ma hai vinto poi no non ho vinto lo stesso perché io storicamente non vinco mai però però comunque volevo che i giocatori non avessero quella sensazione di aver buttato via la dimostrazione di quello che dicevo cioè è molto più grave secondo me abbandonare che paradossalmente barare anche non intenzionalmente come avevi fatto tu in questo caso perché immaginate ecco tra tutte le altre forme di espressione credo che i giochi da tavolo assomiglino più di tutte dal punto di vista dei giocatori alle piste atrali o al teatro di improvvisazione cioè a volte hai un canovaccio come c'è il canovaccio di Room 25 però poi sei tu che decidi come interpretarlo o il canovaccio delle casella follia o degli altri titoli che abbiamo ecco immaginate di star recitando sul palco per fortuna non c'è il pubblico normalmente di giochi da tavolo però state recitando una storia siete presi siete immedesimati nel vostro personaggio e a metà del secondo atto il principe decide che si è rotto le scatole e vuole tornare a casa per carità in qualche maniera magari la rappresentazione la porti ancora a casa la giusti però è veramente cioè va proprio a spezzare quell'incantesimo che si crea ecco forse la vera ragione per cui io provo un amore profondo per i giochi da tavolo è che quando si gioca insieme si crea proprio questa sorta di incantesimo per cui effettivamente ci trasferiamo in quel posto lì è più forte con i giochi di ruolo perché chiaramente lì è tutta immedesimazione tutta recitazione tutta ma anche i giochi da tavolo a loro modo sono in grado di produrre con diciamo invece il vantaggio di avere tempi di gioco decisamente più ridotti e manuali meno spessi ma riescono a riprodurre questa cosa appunto io l'altra sera mi sentivo in quella base nell'artico cercando di mimetizzare me stesso tra gli umani mentre io non lo ero ecco quando quando gioco a Battlestar Galactica mi sento un membro dell'equipaggio delle navi in fuga verso la salvezza inseguite dai siloni da questi androidi dalle fattezze umane malvagie anche qui che si confondono e quindi uno di noi potrebbe essere o più di noi potrebbero essere dei siloni e che è una sensazione ancora più forte molto più forte rispetto a semplicemente e uso semplicemente insomma se una narrazione cinematografica televisiva o scritta in un libro è ben fatta sappiamo tutti quanto può già essere quello coinvolgente immaginate quel tipo di coinvolgimento ma alziamolo ancora ci alziamo ancora un po' il volume alziamo ancora un po' la posta perché sei tu ed è questa la magia che secondo me rende i giochi da tavolo così così unici ecco e poi un'altra cosa i giochi da tavolo secondo me spesso e volentieri ti danno la possibilità di rappresentare un po' anche come siamo noi come la nostra società prima parlavamo dei cooperativi o dei semi cooperativi contradditori ma facciamo un cooperativo come Pandemia che abbiamo citato o le case della follia in questi cooperativi spesso e volentieri si parla del problema del giocatore alfa ossia il giocatore che decide un po' per tutto il gruppo e tolti i casi in cui devi trovarti anche degli amici giusti io dico sempre però è normale che anche in un qualsiasi gruppo di amici anche soltanto per decidere di organizzare di andare a mangiare una pizza eccetera c'è un po' quello che raccoglie un pochettino il gruppo che lo guida il mangiatore alfa esatto il mangiatore alfa che trascina il gruppo perché di tutto è di solito quello che organizza la serata che chiama tutti ci troviamo in piazzetta eccetera e poi i ragazzi si va lì e i giochi da tavolo anche in questo secondo me lo rappresentano nei cooperativi comunque si notano quelli che magari discutono sempre tutto e mettono tutto in discussione quelli che alla fine guidano il gruppo quelli più timidi che se ne stanno in disparte che qualsiasi decisione prendi eccetera e quindi al di là del fatto che è vero che si conosce di più una persona stando al tavolo da gioco per un'ora con quella persona che frequentandola per un anno e sono fermamente convinto che sia così proprio perché si cade in quell'incantesimo in quell'e-links in quella vertigine che citavo prima e quindi tendiamo a volte a perdere qualche filtro quando giochiamo a lasciar cadere un po' di maschere anche se paradossalmente magari ne indossiamo una è di nuovo per quello il paragone che facevo prima col teatro secondo me calzante perché è una situazione più protetta in cui mi sento più libero di comportarmi seguendo un po' la mia vera natura è più facile che la mia vera natura venga fuori e più di un'altra cosa io credo che se c'è una cosa specifica cioè dici non so la pittura ha la forma d'arte diciamo la specificità della pittura è di tramandarci farci vedere delle visioni del mondo delle finestre sul mondo dei modi di vedere il mondo la musica ci può far trasportare dalle emozioni attraverso i suoni quindi la musica è fatta di emozioni non so la danza ci fa capire come esprimere invece le nostre emozioni attraverso il movimento del corpo i giochi da tavolo secondo me sono un modo per farci riflettere su come interagiamo tra di noi e non a caso nel tempo si sono anche modificati tanto cioè i giochi da tavolo diciamo più storici più classici mostravano quasi soltanto dei modelli di interagire super aggressivi l'esempio più classico è il monopoli e io vinco se tutti voi finite sull'astrico in mezzo alla strada a mendicare con il cappello in mano cavoli che forma di interazione super aggressiva il risico vinco se io bastono vi bastono conquisto i vostri territori espando il mio impero eccetera eccetera il fatto che negli ultimi diciamo 20-25 anni siamo andati verso forme di giochi che raccontano un modo di interagire più portato a lavorare insieme per risolvere un problema superare una crisi ottenere un obiettivo uno dei cooperativi più belli che ho giocato ultimamente si chiama Daybreak e bisogna letteralmente salvare l'umanità cioè si è nei panni delle superpotenze e bisogna cercare di trovare un equilibrio corretto tra la produzione industriale che non può arrestarsi la crescita del benessere della popolazione che non può essere più di tanto messo in discussione e la tutela la conservazione del nostro pianeta e il farlo cioè il trovarsi tu al tavolo a prendere queste decisioni difficili ma puntiamo sulle rinnovabili o puntiamo su una nuova tecnologia per i trasporti o è meglio lanciare un programma di cooperazione internazionale per la tutela delle aree a rischio dover prendere queste decisioni tu è una lezione di educazione civica che non è sostituibile posso vedere tutti i documentari che voglio posso leggere informarmi ma calarti davvero tu nei panni dei decision makers dicono gli anglofoni di questa situazione complessa che poi viviamo noi nella vita di tutti i giorni e si riverbera nelle decisioni di tutti è secondo me una magia speciale che solo i giochi da tavolo hanno sicuramente e ti dico anche un'altra cosa che le interazioni che tu sperimenti a parte che negli ultimi anni probabilmente dopo il lockdown hanno spinto anche la modalità solitaria di giochi da tavolo non so se tu la provi ma io non riesco proprio a giocare i giochi da solo però per esempio i miei soci riescono a giocare io onestamente non riesco però sperimenti tutta una serie di interazioni e di azioni che tu devi fare addirittura a volte impopolari oppure mi viene in mente il gioco Dead or Winter che è uno dei miei giochi preferiti a tema zombie nei quali i giocatori un po' come quella serie Walking Dead sono fra i sopravvissuti in un mondo zombie devono supportare la propria colonia raccogliendo il cibo raccogliendo i medicinali hanno anche molti degli obiettivi diversi devono sfamare la colonia devono uscire fuori e per raccogliere armi per raccogliere cibo medicinali e devono fare cose diverse spesso volentieri sono sottoposte delle scelte morali molto forti che gli altri possono anche criticare possono essere d'accordo comunque già d'accordo però ti spingono molto a tirar fuori delle cose che hai dentro sono gli unici giochi che io riesco da tavolo che gioco volentieri in solitario proprio per la cosa che ti dicevo prima perché secondo me la parte più importante la compagnia più importante è proprio l'interazione con le altre persone al tavolo infatti un tempo si chiamano giochi di società e anche io il giocare in solitario lo vedo come uno strumento utile per imparare le regole quindi lo faccio qualche volta se voglio imparare le regole un gioco complesso ma non trovo una grande soddisfazione nel giocare in solitario un gioco da tavolo perché mi riporta all'enigmistica che dicevo sopra che mi è un po' ostica diciamo addirittura invece i giochi che non sono non sono neanche dei grossi giochi ma sono un'occasione per interagire con gli altri cosa ne pensi questi nei quali alla fine io li descrivo come giochi nei quali alla fine chi vince non importa quante volte l'abbiamo detto la linea da Dixit in poi Dixit Dream On dove bisogna ricostruire un sogno tutti insieme o Dixit dove andiamo sostanzialmente a dare una nostra interpretazione di immagini oniriche di immagini aperte a molti significati questi sono giochi di condivisione cioè sono giochi dove alla fine effettivamente lo scopo per me è raccontare qualcosa di me agli altri attraverso il gioco o verificare e godere della mia conoscenza dei miei amici cioè ecco qui dipende se lo sto giocando con sconosciuti è bello perché riesco a dire qualcosa di me agli altri in modo soft cioè in maniera indiretta e invece quando si gioca con persone che si conosce bene diciamo che a volte è un modo per non so rivangare dei ricordi che si hanno in comune delle conoscenze che si hanno in comune dei gusti che si hanno in comune quindi sono veramente attività sociali certamente il gioco magari non è complesso piaceranno di meno questi giochi ai giocatori dallo spirito più competitivo però io personalmente li adoro proprio perché si vede bene la condivisione ecco insomma guarda in Dixit io mi ricordo che aveva fatto una partita con degli amici e in Dixit vabbè spiegare Dixit è veramente spiegare un gioco famosissimo che ha venduto milioni di milioni di copie ma per quei pochi che non lo conoscono lo spieghiamo lo stesso bisogna far indovinare una propria carta dando una definizione in mezzo alle altre carte il problema è che non si può essere troppo diretti se per esempio ce l'ha presentato un leone non puoi dire grosso filino o qualcosa del genere perché se tutti te la indovinano non fai nessun punto quindi l'ideale è che qualcuno la indovini al contrario non puoi essere troppo criptico se c'è un leone tu non puoi dire porta blindata perché nessuno lo azzeccherebbe puoi dire mangia sushi in Madagascar puoi cercare di farlo azzeccare l'ideale è che qualcuno insieme a te lo azzecchino allora in quel caso fate punti tutti e due e mi ricordo una volta giocando con una coppia di amici a un certo punto la propria carta viene messa in mezzo alle altre quindi non è semplice trovarla lei aveva detto il sogno e lui subito ha detto l'ho subito sgamata e poi era casa perché lei non vedeva l'ora di arrivare nella casa nuova e l'ha sgabata in questa maniera qui e tiri fuori tanti messaggi tante cose che hai di te tante cose che ti appartengono anche nel profondo nell'intimo a volte anche più leggere naturalmente prima Dream On invece un gioco che fa della narrazione un momento chiave proprio per ricordare le carte perché un gioco tra l'altro è vostro se non sbaglio è un gioco che devi ricordare tante carte messe in fila e l'unico modo efficiente per ricordarle è costruire una storia e quindi costruire una storia tutti insieme che è proprio il massimo credo dello storytelling applicato al gioco da tavolo diventa anche la meccanica di gioco insomma un incastro di scatole cinesi alla Nolan quasi dove vai alla fine il sogno che vai a raccontare tutti insieme veramente di solito non ha senso non ha senso fa molto ridere però è molto divertente e anche qui l'esperienza poi conta molto di più rispetto all'essere riusciti o meno a vincere l'esperienza che vivi in quel momento dici sì 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 ecco speriamo di essere riusciti a darvi una panoramica dei tantissimi modi diversi in cui possiamo coniugare giochi a tavolo e storytelling e credo che possiamo la voglia di provare anche qualcosa di nuovo se lo conoscevano se vi è venuta voglia di provare qualche gioco nuovo direi che abbiamo fatto bene il nostro lavoro e vi salutiamo qui e vi ringraziamo ciao ciao